vai e non c'è un cazzo di nessuno verdicchia fa tempo ci abbatta a giocare contro il muro fa 4 ore domani ci abbatta non riesce a star fermo è alla sua ottava ora oggi no in realtà no però perché è verdicchia? sì grande pierre senti sei a Roma? sei ruolabile per domani? ciao no sto a Porto Polo qui a Rupis qui è tutto uno spettacolo ah eh vabbè grande grande fai bene fai bene goditela dai un abbraccione fammi sapere quando torni ci vediamo presto dai quando torno vi chiamo sì ciao grazie ciao ma vaffanculo va